Si chiama Toby Edison ed è lo sfortunato protagonista di questa storia di oggi. Questo ragazzo di 21 anni di età, pensate che è cieco e ha condiviso quello che gli è successo. Infatti ha fatto sapere di essere stato cacciato da una palestra perché avrebbe fissato, non si sa come, una ragazza giovane. Toby mette la sua vita da cieco su TikTok condividendo gli scatti più importanti e ovviamente è rimasto scioccato, deluso, amareggiato. È uno studente di psicologia e consulenza, è rimasto turbato quando si è accorto che la ragazza era andata a rimproverarlo perché continua a fissarmi e basta se è inquietante. Edison ovviamente aveva il bastone dedicato nei vicinanzi, ha fatto capire subito che era cieco ma nulla da fare. La ragazza lo ha rimproverato e ha rincarato la dosi dicendogli no, non ci credo che sei cieco, per me sei solo un maniaco. Il ragazzo ha spiegato che non può sapere dove si posano gli occhi, anche perché essendo cieco non ci vede minimamente, però il riprovero comunque è arrivato lo stesso. Insomma, è una vicenda questa incredibile che ovviamente ci fa capire e comprendere come a volte le persone si figlino soltanto di quello che vedono senza andare in profondità, ma ci forfermano solo alla parte superficiale. Da narratore italiano è tutto, iscrivetevi se vi va a commentare, ciao a tutti.